Signora, desidera vedere le maschere che i suoi figli indosseranno stasera? No, è la loro festa. Controllo le ragazze e me ne vado. Lascio che si divertano. Il grembiule nero va bene. Non voglio né trucco, né accessori. È arrivato Luis. Farà tardi, signora. Meglio. Così Romulo mi aspetta. Come va, Luis?